E agli arresti domiciliari per Vets Musharraf, l'ex presidente pakistano che governò il paese tra il 99 e il 2008, ha dovuto comparire in tribunale dove gli è stato notificato l'ordine d'arresto. È stato poi riaccompagnato a casa. È accusato di alto tradimento per aver proclamato lo stato d'emergenza nel 2007 in uno scontro con i giudici che lo aveva portato a esautorare il procuratore capo e arrestare altri magistrati. Lo stesso procuratore capo che oggi ne ordina l'arresto. Musharraf è accusato anche di non aver fornito adeguata protezione a Benazir Bhutto, l'ex premier assassinato alla fine del 2007, ed è accusato anche di essere implicato nell'uccisione di un leader tribale e separatista del Baluchistan. Musharraf era rientrato nel paese un mese fa dopo un esigno autoimposto di quattro anni. Contava di presentarsi alle prossime elezioni parlamentari, cosa che gli è stata vietata.